la volta precedente abbiamo parlato della della filosofia che sta alla base del naturalismo oggi parliamo invece di emil zola un grande autore quello che ha dato impulso manzo realista che parla quindi di un certo tipo di argomenti che adesso di cui adesso ci occupiamo e prima però dobbiamo fare il punto sulla fotografia ne abbiamo parlato nell'altra puntata vorrei riprendere questo argomento perché voglio insistere sul fatto che la fotografia cambia molto il panorama artistico e anche diciamo produttivo nel campo della rappresentazione della comunicazione di quell'epoca la fotografia poco per volta diventa più economica facile da praticare e diventa un ottimo sostituto della pittura vi ricordate che ho spiegato che i costi della pittura erano naturalmente molto più impegnative rispetto a quelli della fotografia certi risultati non si potevano paragonare ancora la fotografia era in bianco e nero la pittura era a colori una tela molto grande a volte mentre la fotografia restituiva delle immagini molto più piccole di una tela però certamente la fotografia era un mezzo di espressione di massa e questo è molto importante da considerare perché siamo proprio nell'epoca in cui qualcuno qualche filosofo qualche sociologo parla della civiltà di massa cioè parla di una di una società di una società nella quale vengono sempre più distribuiti dei prodotti alle masse alla alla popolazione tutte quindi c'è nasce anche il cosiddetto consumismo che poi vedremo che consumismo non è perché permangono delle grandi differenze sociali gente in miseria classi sociali che non riescono a procurarsi ciò di cui hanno bisogno e beh in questo contesto ci sono degli osservatori chi sono questi osservatori sono degli intellettuali che indagano la realtà e la indagano proprio come se fosse una fotografia per esempio ci sono dei fotografi che girano per il paese per le città per le fabbriche e cercano di documentare quello che avviene nel senso che cercano di rappresentare la società proprio la società dell'epoca per esempio come si lavora per esempio come la gente si veste come per esempio trascorre una domenica come si reca al lavoro senza contare che per esempio c'è anche un interesse molto forte nei confronti dei mezzi di trasporto per cui la fotografia delle motociclette delle automobili dei treni delle navi ecco la fotografia diffonde anche questo spirito di osservazione e anche uno spirito giornalistico per cui i giornali cominciano a pubblicare non solo dei disegni come sempre hanno fatto delle vignette ma cominciano a pubblicare anche delle foto la foto è molto importante perché colpisce il lettore lo porta subito a considerare se un determinato articolo può essere di suo interesse osservati i giornali oggi oggi giornali e specialmente quelli digitali hanno anche dei video inseriti anzi molto spesso le notizie sono veicolate attraverso dei video che non sono altro che una successione di di diapositive in powerpoint questo per dire che il ruolo che l'immagine ha avuto verso la seconda metà dell'ottocento e primi del novecento è stato di grande importanza non solo in ambito artistico cioè nel campo della concorrenza fra fotografia e arte ma proprio ha stimolato l'osservazione la conoscenza della realtà allora noi qui dobbiamo stabilire una questione perché ci dobbiamo chiedere ma in fondo chi conosce la realtà chi è in grado di conoscerla questa realtà non lo so io prendo uno di voi riccardo assia e vi chiedo ma voi conoscete l'ambiente in cui voi lavorate studiate operate state con gli amici abitate ma forse sì forse no non dovete dare una risposta adesso ma era un esempio no certo da un certo punto di vista voi lo conoscete perché sono gli ambienti che voi frequentate ma vedete per conoscere veramente qualche cosa non bisogna solo frequentarla bisogna anche osservarla ora sarebbe abbastanza ridicolo che non so poniamo che assi riccardo si frequentino nello stesso giardinetto per esempio con le loro compagnie quando si incontrano anziché parlarsi si mettono a guardarsi si osservino si scrutino per capire come fatto l'altro come agisce no certo ogni tanto ci si osserva ogni tanto ci si scruta e dopo un'osservazione magari si ride si guarda questo taglio di cappelli dai ma su ti sta male oppure bellissimi questi occhiali ecco però questa non è proprio una vera osservazione non è il capire come la gente vive in quell'ambiente e da che cosa è composto quell'ambiente magari vivete in palazzi in condomini dove non conoscete nessuno oppure conoscete tutti ma non sapete per esempio che cosa fanno le persone quando si alzano la mattina quali sono le loro abitudini non sapete esattamente come si comportano per esempio al lavoro le incontrate sulle scale vi salutate ridete scherzate due battute cioè c'è un tipo di conoscenza che potremmo definire informale ma non esiste una conoscenza di tipo scientifico cioè con tutti i dati che vi permettono di comprendere qualche cosa anche la scuola nella scuola voi incontrate 1200 studenti magari ne conoscete anche in modo più approfondito un centinaio per dire però non conoscete realmente l'ambiente scolastico anche se vi sapete muovere anche se conoscete magari degli anfratti dei posti che pochi conoscono frequentano però non è questo un tipo di conoscenza scientifico non avete una planimetria della scuola non ne conoscete i volumi non sapete quali sono le funzioni d'uso i problemi come le persone usano cioè voi non sapete come la gente vive realmente perché perché voi vivete insieme alla gente quindi il vostro scopo è quello di vivere non di osservare come si vive bene però grazie alla fotografia le cose cambiano fotografia e cinematografia anche il cinema è importante perché la macchina da presa consente proprio di raccontare il movimento che un soggetto fa in un determinato ambito quindi veramente nasce proprio l'interesse per capire capire che cos'è questa società come funziona e quindi per esempio tanto per farvene uno in russia c'era un grande cineasta che si chiamava ziga verto perché andava in giro con la sua cinepresa e il cavalletto una cosa molto pesante un treppiede pesante anche la cinepresa molto pesante con le pizze da montare sopra le pizze sono le pellicole arrotolate dentro un involucro rotondo che con questa cinepresa e un suo aiutante andava in giro per la russia a documentare come la la gente viveva per esempio si metteva all'alba e aspettava che la gente uscisse di casa e allora filmava filmava queste persone che uscivano di casa poi che si muovevano andavano a lavorare poi che rientravano che trascorrevano la domenica poi filmava le industrie e i mezzi di trasporto insomma documentava nasce nasce proprio così il la necessità di documentare quindi il documentario fotografia e ripresa cinematografica beh ma questo come dicevo ha un'influenza importante però nei confronti di tutti gli intellettuali e capitano due cose allora una cosa senza la quale non potrebbe esserci l'altra e che nasce la scuola pubblica cioè jules ferri in francia fa una legge che istituisce proprio riorganizza la scuola pubblica che napoleone aveva già organizzato quindi la gente le persone proprio la popolazione comincia un po per volta essere in grado di leggere tutti quanti possono leggere e si trova sempre più spesso qualcuno che all'interno della famiglia è in grado di leggere quindi legge a voce alta legge legge suoi familiari ad altre persone quindi la scuola ha un ruolo fondamentale per elevare la cultura delle persone quindi leggono leggono e leggere vuol dire che i giornali possono essere maggiormente diffusi e insieme ai giornali possono essere diffusi anche i romanzi libri però attenzione un libro è impegnativo da leggere per esempio io dato solo alcuni capitoli di teresa racchèm perché alla fine un libro di 500 pagine quindi complesso da sostenere per una persona come all'epoca che magari legge ma legge magari un po faticosamente quindi è veramente difficile allora questi questi romanzi venivano pubblicati sui quotidiani e magari una volta alla settimana tutti lunedì veniva pubblicata un capitolo del di un libro di zola oppure di flaubert di qualcun altro allora questi romanzi che venivano pubblicati a capitoli si chiamavano feuilleton feuilleton perché era proprio un foglio un foglio grande i giornali erano molto grandi all'epoca stampati proprio su pagine più grandi di quelle dei quotidiani attuali e lì il lettore se acquistava il quotidiano tutti lunedì ci avrebbe trovato un capitolo poi un altro poi un altro ancora e dopo sette otto dieci numeri avrebbe concluso la sua lettura questo era più semplice perché perché aveva una settimana di tempo per leggere quindi anche un lettore non particolarmente esperto con calma si poteva mettere lì a leggere ed era una scoperta perché perché c'è una differenza enorme tra un articolo di giornale e un romanzo pubblicato a puntate immaginate la situazione attuale noi stiamo vivendo questa emergenza e leggiamo sui giornali le notizie siamo a caccia di notizie poi vediamo che le notizie più o meno sono sempre le stesse ma sono presentati in modo diverso cosa apprendiamo apprendiamo dei numeri delle nozioni ci facciamo delle idee però non essendo degli scienziati questi numeri queste nozioni per noi hanno poca utilità perché non possiamo stabilire delle previsioni per esempio possiamo leggere tanti tanti giornali ascoltare tante conferenze della protezione civile ma non possiamo stabilire quando rientreremo a scuola se rientreremo a scuola quando potremo uscire e così via non abbiamo gli strumenti per questo quindi resta una cultura una un sapere diciamo così molto molto astratto per noi pensate invece se un quotidiano cominciasse a pubblicare un romanzo di un grande autore cioè di uno capace di scrivere uno bravo veramente che decide di raccontare la vita degli italiani o nel mondo o di mettere a confronto una famiglia new yorkese con una milanese perché magari sono imparentati e si immagina una storia una storia che racconta racconta puntate su un giornale io penso che questa sia una lettura molto interessante che ci fornisce delle conoscenze forse ci fornisce delle conoscenze più utili di sapere che ci sono stati 2.000 nuovi casi o 140 guariti rispetto al giorno scorso perché questi sono dei dati dei dati scientifici certo ma che hanno per noi un valore molto relativo finisce lì sappiamo qualche cosa e finisce se invece noi ci immaginiamo non lo so una una ragazza una ragazza che lavora in un ristorante di new york e che magari non ha i soldi per fare il tampone sapete che negli stati uniti un tampone può costare 2 3 mila dollari quindi la popolazione non è tutelata come da noi non esiste una sanità pubblica come la nostra per dire quindi è interessante poniamo che questa ragazza abbia dei parenti dei parenti in italia che invece sono tutelati poniamo che questa ragazza abbia un giro di amici partecipi a un circolo magari un circolo sportivo che queste persone si sentano si si vedano lei racconta bene di quello che succede in italia queste persone non lo so comincino a protestare perché vogliono una sanità pubblica e magari la presidenza della repubblica risponde in un certo modo dei deputati in un altro si verificano dei conflitti delle discussioni ci sono dei morti e contemporaneamente viene raccontata una storia parallela dei suoi parenti o amici che si trovano in italia ecco non sarebbe interessante io dico a mio parere che sarebbe molto più interessante di conoscere qualche qualche dato di difficile interpretazione che non ci dice niente oltretutto sono dati sul passato sul giorno trascorso su quello che è avvenuto non sul futuro ecco invece la letteratura ci può parlare del futuro solo la letteratura ce lo può raccontare nessun altro la la scienza non può dirci che cosa succederà la scienza può dirci noi raggiungeremo il picco tra una settimana però un altro scienziato dice forse lo raggiungeremo tra due settimane però per noi una settimana o due settimane cambia tutto perché ci dobbiamo organizzare in un modo piuttosto che in un altro per esempio rientrare prima di pasqua rientrare dopo pasqua vuol dire che la scuola è completamente diversa ma questo la scienza non ce lo dice nessuno lo sa neanche la letteratura ovviamente però la letteratura può immaginare la letteratura immagina che cosa succederà può prendere degli dei soggetti inserirli in un contesto e farli muovere farli ragionare e allora sentite che cosa dice emil zola perché questa è una cosa veramente veramente interessantissima ecco zola che cosa dice nella prefazione al romanzo teresa rachan dice ho scelto dei personaggi dominati superlativamente cioè proprio fortemente caratterizzati dai nervi dai nervi cioè dei personaggi che agiscono anche sotto impulso e dal sangue nervi e sangue privi di libero arbitrio cioè che certo loro hanno deciso che cosa fare ma hanno deciso che cosa fare come comportarsi sotto l'impulso degli avvenimenti del contesto che stavano vivendo e in particolare il romanzo parla di un amore e un tradimento e parla della condizione di una donna in questa relazione sospinti in ogni atto dalla fatalità della loro carne cioè come se una sorta di destino li avesse portati a compire le azioni che hanno compiuto azioni terribili che hanno compiuto perché questo cioè come ha fatto zola a stabilire questo come fa zola a dire che l'essere umano in una certa circostanza si comporterà in un determinato modo e lui ci è riuscito perché dice il mio scopo è stato essenzialmente scientifico ogni capitolo è lo studio di uno strano caso di fisiologia cioè come se fosse proprio un lo studio del corpo umano di come questo corpo umano reagisce no fisiologia lui lo intende nel senso noi potremmo tradurlo in personologia cioè come la persona come la persona agisce si si muove e l'ha fatto in modo scrupoloso perché lui ha notato scrupolosamente le sensazioni gli atti di questi due esseri in definitiva dice zola ho fatto su due corpi vivi il lavoro di analisi che i chirurghi fanno sui cadaveri interessantissima questa cosa perché qui zola ci dice cari ragazzi che lui è stato come dire una specie di fotografo della letteratura di documentarista di filmmaker della della letteratura cioè lui ha usato la letteratura come se fosse un filmmaker un documentarista un cineasta cioè ha raccontato quello che secondo lui potrebbe succedere quando in un determinato ambiente sociale mettendo insieme determinate persone potrebbe capitare e quindi tutti i suoi romanzi hanno una caratteristica tra virgolette e prendiamo questa affermazione tra virgolette ma hanno una caratteristica di tipo scientifico e per lo meno questo era il suo intento ma per fare questo emil zola che una persona molto intelligente non si è messo a tavolino e ha detto ah adesso voglio vedere che cosa succede quando una donna ha due amanti e poi succede questo e quell'altro e poi vediamo come reagiscono mi metto qua penso penso e scrivo no perché pensare non basta per quanto uno possa essere intelligente e avere una grande creatività e beh però il suo pensiero non è sufficiente per scrivere una storia di questo genere deve conoscerla e allora ecco che cosa ha fatto zola zola ha girato a lungo la francia l'ha proprio girata e certe volte vivendo con le persone delle quali voleva raccontare le storie per esempio ha vissuto con i ferrovieri per scrivere un libro di omicidi e di cose che accadono all'interno di quel mondo per esempio è andato a conoscere i minatori e lì ha scritto un libro straordinario molto bello che si intitola germinal e che parla proprio dei minatori gira per i quartieri conosce intervista le persone le osserva cerca di vivere con loro cioè non fa il turista ma fa proprio il documentarista e quindi ecco che grazie a queste informazioni lui può farsi un'idea sul modo in cui queste persone reagiscono costrette dalle circostanze badate bene costrette dalle circostanze perché zola dice se tu fai una cosa fai a poi sei costretto a fare b poi sei costretto a fare c in un determinato contesto in un altro contesto invece da non farai b ma farai z y dipende anche dal contesto in cui tu vivi e per questo lui dice che le persone non hanno molto libero arbitrio cioè libertà di operare perché alla fine l'ambiente sociale in cui vivi ti condiziona ricco povero lavoratore disoccupato analfabeta culturalmente preparato ecco queste cose fanno la differenza insieme ai caratteri alle caratteristiche la psicologia delle persone dei personaggi allora uno dei romanzi più interessanti di emil zola è senza dubbio teresa racca del 1867 definito dallo stesso scrittore un romanzo studio psicologico e fisiologico grazie alla complessità dei vari personaggi che vengono descritti minuziosamente da lui stesso e mezzo la utilizza il narratore onnisciente che cambia di continuo il suo oggetto di analisi passando da un personaggio all'altro a secondo della situazione che cos'è un narratore onnisciente beh il narratore ogni ogni gente quello che sa tutto e racconta la verità al lettore perché è quello che vede la storia dall'esterno per esempio se la storia fosse raccontata da uno di questi personaggi non sarebbe onnisciente perché perché saprebbe come lui si comporta chiaramente saprebbe descrivere le sue azioni ma non saprebbe però entrare nel merito dei comportamenti di altri personaggi invece in questo caso emil zola è un narratore esterno quindi si occupa di tutto e il lettore viene a sapere tutto e per questo egli cioè zola può cambiare di continuo il suo soggetto dell'analisi passando da un personaggio all'altro si tratta di uno dei più importanti romanzi dell'autore dove si nota implicitamente il realismo francese trattato dalla storia trattando della storia di un delitto passionale eccolo qua questo romanzo parla di uno degli argomenti più vecchi del mondo proprio che è quello del delitto passionale qui vedete per esempio l'interessante le prime copertine dei libri com'era la milzola teresa rakeni film notate anche queste locandine sono sono molto belle molto carine chissà se trovate magari il film teresa rakeni è un vecchio film quindi non so che possibilità avete di trovarlo se lo trovate me lo dite e poi cerchiamo di condividerlo organizziamo una serata e ce lo vediamo insieme organizzo un cineforum come ho fatto anche in quinta teresa rakeni eccolo qua due copertine del libro è una locandina del dell'omonimo firma nel romanzo lo scrittore non risparmia niente e nessuno descrivendo la realtà per quanto cruda nel modo più minuzioso possibile regalando così al lettore l'oggettività di tutto ciò che accade ecco questa oggettività naturalmente non è una oggettività una soggettività cioè è la soggettività dell'autore che descrive quello che secondo lui secondo lui è l'oggettività della storia però è un giochetto interessante questo perché in realtà il romanzo è un punto di vista è il punto di vista dell'autore non è un trattato oggettivo però lui ce lo presenta come se fosse oggettivo e quindi veramente il lettore va avanti a leggere interessato perché sente che la storia è vera come fa a sentire che la storia è vera ma prima di tutto perché zola è bravo a scrivere e va bene su questo questo diciamo una caratteristica che uno scrittore deve possedere zola è bravo a scrivere ma zola è bravo a mettere insieme le cose a dargli una logica e grazie alle conoscenze che lui ha acquisito della popolazione i viaggi che ha fatto le persone che ha conosciuto ecco che riesce a restituire un romanzo che è plausibile il lettore dice caspita è proprio così le cose sono andate così se fossero accadute al mio vicino di casa sarebbero andate in questo modo e quindi ecco che il lettore si sente coinvolto nella lettura del romanzo e va bene poi dice che tutti i personaggi del romanzo alla fine sono egoisti e nel libro oltre la struttura quattro personaggi che venne adottata da gotte anche descrive in modo schietto le situazioni parla anche dell'ipocrisia diciamo della società dell'epoca quindi poi potete prendere tutte le informazioni che volete su questo tema ecco noi ci fermiamo qui questo era quello di cui vi volevo parlare oggi vi chiedo un grosso sforzo che è la lettura di una parte di questo libro però non ci occupiamo d'altro di letteratura in questo momento vi lascio alla vostra lettura e alle vostre considerazioni quando svolgerete il compito di leggere i primi dieci capitoli di teresa rakenne di annotare capitolo per capitolo quello che succede e prendere la citazione più importante il punto più più quello che secondo voi è stato veramente chiarificatore all'interno di questo capitolo ecco vi chiedo di ragionare ragionate dite quello che pensate parlate delle capacità dell'autore oppure non so delle problemi che avete incontrato magari in alcuni punti la lettura può essere complicata forse magari la trama vi può sfuggire certe volte ecco esprimetevi liberamente e cerchiamo di capire proprio come zola è riuscito a mettere insieme questa storia e chissà magari attraverso questa analisi questa lettura forse qualcuno di voi un giorno diventerà un grande scrittore e se diventerà un grande scrittore è bene che si ricordi di noi poi e quindi condivida la sua fama e la sua fortuna con i suoi compagni classe e i suoi bravi e simpatici docenti per oggi è tutto per quanto riguarda questa lezione interrompo la registrazione e ritorniamo nella nostra aula